Un altro mondo, Mark Cremond insieme a Tannanaya Marrakesh alle 8 e 29 minuti, anzi 30 minuti in questo istante, 8 e 30 in questo istante di oggi, mercoledì 20 settembre. Siamo qui, siamo qui in diretta su Cristal Radio e anche su Milano All News con i nostri ospiti di oggi, ve li presento Eva Amos, buongiorno Eva. Buongiorno, buongiorno Fabio, buongiorno a tutti. Allora Eva, chi ci ha portato? Perché abbiamo portato con te un altro ospite quest'oggi, chi è? Perfetto, ho portato qua l'artista Alicia Fusai che sarà presente al Vernissage di stasera di una mostra che si intitola Dream Arts 4, che raccontiamo adesso in questa puntata. Perfetto, allora, tornano le mostra di Eva Amos su Good Morning Milano, era un po' che non venivi ospite, quindi siamo contenti di averti qui di nuovo con noi. Dream Arts, edizione numero 4, però insomma, siamo già arrivati alla quarta edizione. Esatto. Cos'è Dream Arts? E oggi inizia alle ore 17 da Abarth, in Passo Pordoi 7, zona vigentina per intenderci. Che cos'è Dream Arts? Dream Arts è la mostra contro violenza, contro discriminazione, contro tutte le cose brutte di questo mondo, dove gli artisti e i sognatori presentano la versione migliore di questo mondo. Ah, uno di questi artisti è Alicia, Alicia hai detto giusto? Esatto, sono io. Allora Alicia, tu che cosa porterai questa sera? E ricordiamo che rimarranno poi fino al 4 ottobre le opere a disposizione appunto nello spazio Abarth di Via Passo Pordoi 7. Allora, io insieme a Eva abbiamo fatto una selezione di un paio di opere dei miei lavori, che sono un po' con dei tecnicismi diversi da altre opere d'arte che siamo abituati a vedere, perché utilizzo spezie, semi, sale, pepe, tutto quello che è nutrimento per il nostro corpo, lo resino e lo faccio comunicare attraverso delle opere. Quindi ci nutri anche la mente con le tue spezie. Nutro lo spirito, nutro lo spirito di chi vuole farsi nutrire. E sono due le opere che ho portato, sono l'energia maschile e l'energia femminile, proprio che mi sembravano, ci sembravano più adatte al tema della mostra. Tema appunto, abbiamo detto anche sul sogno, ma è soprattutto però ricordare la lotta contro la violenza di genere, discriminazione di genere. Quindi i tuoi non sono, sono dei quadri speziati e fisici, però appunto si possono appunto anche, non toccate, non toccate i quadri, mi raccomando, però nel senso è comunque una costruzione. Chi altro ci sarà? E come al solito, Giro del Mondo in 80 giorni? O in Giro del Mondo in 80 opere? Sono 14 nazioni. Esattamente, sono 49 artisti provenienti da 14 paesi diversi. Quindi facciamo un giro del mondo. Eh, infatti, come sempre, come sempre. Lì c'ha questa idea di usare le spezie o dove ti è venuta? Mi considero un po' una trasformatrice di materia. E ne faccio più una questione di, un po' come, mi lego a un concetto di fai del cibo la tua medicina e fai della medicina al tuo cibo, ancora legato a un pensiero di Ippocrate del III secolo a.C. E io ho praticamente coniugato l'utilizzo di ciò che è nutrimento per il nostro corpo sulla tela per cercare proprio di dare una connotazione di nutrimento proprio per lo spirito. Hai sempre usato questa tecnica o ci sei arrivata col tempo? Sempre ho usato questa tecnica. Io nasco così, cioè non ho fatto altri lavori con acrilici o... Cioè proprio nasco con l'intento proprio di utilizzare, di utilizzare, di enfatizzare tutto ciò che proprio noi utilizziamo per dare sapore ai nostri piatti e renderlo uno strumento di comunicazione. Chiaramente. Oltre alla pittura materica in questo caso andiamo anche proprio a prendere... Immagino che quindi le spezie che usi hanno uno dei significati poi all'interno del... C'è sempre, c'è sempre comunque un significato anche simbolico perché io poi in alcuni dei miei lavori dove ci sono, diciamo, le... come si chiamano, le certificati, quelli che si rilasciano all'acquisto, scrivo anche quelli che sono gli ingredienti che ho utilizzato e quelli che sono anche i significati simbolici delle spezie che ho utilizzato. Interessante, è proprio come se fosse un piatto quasi da mangiare. Mancano gli allergeni, ma anche noi ci siamo. Alcune opere hanno anche un profumo buonissimo. Immagino. Anche se sono resinati, ma alcune opere hanno ancora il profumo. Sì, ci sono, certo, ci sono alcuni elementi tipo i frutti di bosco, la paprika, alcuni più di altri che vincono sulle resine. Cioè che non c'è resina che vinca. Insomma, la resina può rimettere quello che vuoi, ma... Esatto. Beh, insomma, la paprika... Quindi persiste questo profumo, oserei dire, che avvolge anche i sensi. Diventano quadri quasi sinestetici, perché li vedi, li puoi toccare, li puoi ascoltare sotto diversi sensi, perché immagini il sapore, perché chiunque poi ha magari assaporato certi elementi che sono presenti nei quadri, ma poi nell'ascolto di quelli che sono i racconti che sono dietro le piante. E poi appunto il profumo, quindi non è male, è un'esperienza che ti prende in tutti i tuoi sensi. In tutti i tuoi sensi. Allora, dicevamo, questa sera alle ore 17 appunto si apre, c'è il Vernissage di Dream Arts edizione 4. Mandiamo una piccola pausa per una piccola canzone. Adesso c'è piccola, insomma, Aiello con Mi piace molto. E poi torniamo sempre qui in diretta su Crystal Radio, sempre con Evamos, Licia Fusai e Dream Arts. Edizione 4, ricordiamo, questa sera alle ore 17 a Lab Heart di Via Passo Pordoi, 7. E adesso Aiello, Mi piace molto. Avrà assaggiato uno dei suoi quadri magari, no? Aiello, Mi piace molto, Crystal Radio, 8 e 38 minuti, qui insieme a noi Evamos e Licia Fusai, perché questa sera appunto si inizia l'avventura di Dream Arts edizione 4, alle ore 17 inizia il Vernissage da Ab Heart in Via Passo Pordoi, 7, zona Vigentino. Cosa dobbiamo aspettarci per questo Vernissage? Io so che non è mai solo un apriamo, ciao, beviamo un bicchiere. No, è sempre un momento interessante, un evento con dentro altri eventi. E questa sera abbiamo appunto... È come le Matrioska, no? Esatto. Tu sei russa, quindi non potevi che utilizzare quello stile. Esatto, esatto. Spero che i ospiti di stasera apprezzino tutti questi contributi delle persone che verranno a... Quindi si inizia alle 17 con chi? Allora, alle 17 inizia l'accolienza. Perfetto. Alle ore 17.30 invece abbiamo la presentazione del libro del giovane scrittore di Imola, che ha scritto il libro, il romanzo, Baobab, Tocco il cielo dell'Africa, quindi è un libro davvero molto interessante, l'ho letto e mi è piaciuto molto, quindi vi suggerisco se riuscite a venire per le 5 e mezzo. Dopodiché alle 6 e un quarto abbiamo live music eseguito da musicista e artista irlandese, James Knight, che tra l'altro espone la sua opera in questa mostra. Quindi un artista di varie discipline, diciamo, pluridisciplinare. Quindi sentiamo un po' di musica irlandese stasera. Non fa mai male. Esatto. Ma lui è anche cantautore, quindi è una cosa molto interessante. Invece alle 19 abbiamo la presentazione ufficiale della mostra in mia compagnia con critico e giornalista culturale Emanuele Biluffi. Dopodiché seguo l'intervento dell'avvocato del centro antiviolenza, Marta Buti, che toccherà l'argomento molto sensibile e ormai molto attuale sulla violenza del controllo delle donne. Perché oltretutto voi avete appunto fatto questa sinergia insieme a Circhi d'Acqua, che è un'associazione appunto importante milanese, proprio per cercare di portare questo tema un po' sempre acceso, diciamo, a tenere i riflettori su questo tema. Tutto questo appunto questa sera, giusto? Dicevi? Sì, stasera abbiamo tutti questi eventi, dalle 17 alle 20.30. Ok. Poi comunque domani la mostra è lì. Come funziona se uno vuole poi venire a vedere la mostra? Allora, la mostra continua fino al 4 ottobre, gradita sempre la prenotazione, che bisogna inviare tramite il nostro sito, tramite Instagram, direct, come volete. E gli orari sono dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00. Ok, artspace milano.com, giusto il sito? Arts, artspace. Arts, artspace, ok. Chiociolo, gmail.com. No, dicevo il sito, il sito. Ah, sì, scusami, artspacemilano.com, sì. Se no, c'è la mail che appena detto, o comunque anche su Instagram, cercate artspace, trovate, e potete mandare appunto i messaggi in direct. Tra queste 49 opere, dicevi? No, 49 artisti. 49 artisti, ah, qui sono più. Le opere sono di più, esatto. Per esempio lì ci espone due opere. Infatti, volevo arrivare a lì, c'è due opere esposte. Due opere perché abbiamo fatto proprio una scelta di energia femminile e energia maschile per non togliere niente all'uno e all'altro. Da dove arrivano queste opere? Come ti è venuta l'ispirazione per farle e appunto hai trovato in questo momento il luogo giusto per esporle, no? Insomma, parliamo di dreams, parliamo di energie. Intanto devo specificare una cosa. Non sono opere che sono state fatte specificamente per la mostra, ma sono datate un paio d'anni fa, credo, o tre. Io sono un po' alla ricerca di un viaggio molto personale, spirituale. Una cosa che credo che accomuni un po' tutti gli esseri umani a un certo momento della propria vita. Quindi questo titolo che ho dato sia a quella energia maschile che all'energia femminile è proprio un riconoscimento di una parte di questa energia che è presente in ognuno di noi. Cioè, io accolgo in me entrambe le energie, tu accogli in te entrambe le energie. Ho dato visivamente questa apertura come se fossero dei cerchi d'acqua. E questa è un po' la connessione che poi ci ha ricollegato anche al tema di quello che sarà l'intervento di stasera. E quindi ci è piaciuta questa coniugazione, questo link, questa connessione, perché poi alla fine in questo mondo noi siamo tutti connessi. Non ce ne stiamo rendendo conto ma siamo molto più di quello che siamo apparentemente. E quindi appunto queste due bellissime opere che io ho avuto la fortuna di vedere, adesso mi hai portato qui il catalogo, quindi ho avuto la fortuna di vedere un po' diciamo in anteprima sono due pale perché sono proprio mi ricordano un po' le pale d'altare per essere in orizzontale quasi. Sono misure... 150, cioè 50 per 150 non è piccolina, sono due bei bestioni, complimenti. Sono misure un po' straordinarie. 150 per 50 vuol dire che sono dei rettangoli molto lunghi e stretti. Eh sì. Non è una dimensione comune diciamo che ci sono gli artisti. Non è una dimensione comune. Io amo lavorare su dimensioni un po' particolari o su dei quadrati anche piccoli, che amo molto fare perché sono dove sperimento di più perché ho meno timore di sbagliare perché se sbaglio su qualche misura diciamo più contenuta anche ciò che impiego di materiale e di resine lo spreco può essere contenuto alla dimensione del quadratto. Ma poi pensate ma le resine sono difficilissime da gestire. Difficilissime. Io ho tanti lavori purtroppo li butto via. No, io ne so bene. Ho spaccato un bagno ve li dico solo questo però nel senso che so benissimo che le resine sono complicatissime sono difficili. In base alla temperatura in base all'umidità in base alla luce non luce in base anche alla resina perché ogni resina è bicomponente tricomponente una roba che io non so come fate cioè devo diventarci matto. Sì sì ogni stagione è anche a sé perché d'estate hanno una resa d'inverno ne hanno un'altra ma bisogna stare attenti anche al riscaldamento non deve essere troppo alto quindi è comunque è sempre un esperimento che si fa nel tempo presente e poi l'esperienza e l'esperienza continuiamo con un po' di musica tanti colori ci sono da tutto il mondo ecco da tutto il mondo la somma di tutti i colori quando si prendono gli acrilici così si mette insieme cosa diventa? Il nero giusto quando si mette insieme tutti i colori il bianco ok si mette il bianco invece noi no andiamo sul nero invece in questo momento abbiamo Amy Winehouse Amy Winehouse con Back to Black l'unico colore che quindi non vedrete questa sera in mezz'ora milioni e milioni di colori delle opere che verranno esposte a Dream Arts questa sera appunto dicevamo alle ore 17 al Abarth di Via Passo Pordoi a fra poco e adesso Amy Winehouse Back to Black Amy Winehouse Back to Black quanto ci manca Amy sempre ogni volta lo dico ogni volta che mi ha detto le sue canzoni davvero quanto ci manca e quanto troppo presto ci ha salutato grazie mille Amy Winehouse davvero per tutto quello che ci regali ogni volta le grandi emozioni grandi emozioni che anche questa sera potete vivere al Via Passo Pordoi all'Abarth dalle 17 giusto? allora fai siamo in chiusura quasi Eva fammi un riassunto delle puntate precedenti cosa vediamo questa sera? allora alle ore 17 vi aspettiamo numerosissimi in Galleria Abarth alle 17.30 abbiamo la presentazione del libro Baobab toccò il cielo dell'Africa di Giacomo Pozzi alle ore 19.15 abbiamo live music di James Knight alle ore 19 abbiamo invece la presentazione ufficiale con me e critico d'arte Emanuele Biluffi seguo poi l'intervento dell'avvocato Marta Buti del centro antiviolenza Cerchi d'acqua tutto questo per fare poi da cornice usiamo la parola cornice in questo caso ci sta bene a 49 artisti che spongono quante opere mi dicevi più o meno? una sessantina di opere tra queste appunto Licia Fusai che è venuta a trovarci qui oggi con le tue opere diciamo che si possono gustare in tutte le maniere in tutte le maniere anche annusare potete anche toccarle ah si possono anche toccarle l'ha detto con attenzione con attenzione attenzione che poi se riconosco il nostro pubblico fate piano non fatevi riconoscere come sempre mi raccomando grazie mille davvero a tutte e due ci vediamo allora questa sera alle ore 17 al Hub Art di via Passo Pordoi 7 7 come sempre mi raccomando Dream Arts 4 e vamos è una garanzia quindi vi assicuro che vi troverete sicuramente 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 bene grazie mille Eva grazie mille Alicia grazie a te a fra pochissimo ragazzi sempre qui su Crystal Radio 96.2 FM Da Plus iOS Android sito internet e poi come sapete potete rivederci anche su milanonews.it a fra poco adesso è Megan Trainor ciao a tutti i ok ciao a tutti i oi di Grazie a tutti.